Ogni individuo ha diritto alla tutela degli interessi morali e materiali, alla tutela di ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore. Ogni individuo ha diritto alla vita e alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Ogni individuo, ma oggi la domanda che forse Zoarte ci vuole dare, ma oggi esiste un individuo?